Sakuri aiuto, io vorrei tantissimo trasferirmi in Norvegia, ma so che costa un sacco fare la spesa al supermercato, ho paura di morire di fame. Go Dag Cherries! Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Sakuri e oggi vi sto registrando un video attesissimo perché una delle cose che vi interessano di più riguarda il costo della vita in Norvegia. Nello specifico quanto potreste spendere per fare la spesa al supermercato se vi dovesse trasferire in Norvegia. Ora, per chi fosse nuovo sul mio canale o che si fosse perso questi video, io già avevo fatto, ve lo linko qua in alto, un video sul costo della vita in Norvegia in generale e più nello specifico avevo anche fatto un video, che vi linko sempre qui, sul costo di alcuni prodotti, diciamo generi di prima necessità, in tre diversi supermercati norvegesi, in tre catene. Avevo messo a confronto i prezzi di ogni prodotto in ogni catena di supermercati. Però, 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 su questo canale mai contenuti vecchi o ripetuti, sempre contenuti nuovi, quindi oggi un video diverso, sarà un video spesa e vi faccio vedere quanto spendo esattamente per fare la mia spesa settimanale, quindi quanto mi costa sopravvivere una settimana in Norvegia. Prima di iniziare, io vi chiedo, come sempre, se vi va di supportarmi iscrivendovi al mio canale, lo apprezzerei veramente tanto. Se volete potete attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un video, così non vi perdete nessun nuovo contenuto. Potete lasciarmi un mi piace, se trovate utile o interessante questo video, lasciarmi un commento, se volete darmi un feedback sul video oppure farmi altre domande. Se volete mi potete seguire sugli altri social che uso per restare in contatto con voi, trovate i link di tutti quanti qui sotto nell'info box, sono Instagram, Telegram e Facebook. Vi faccio solamente alcune precisazioni veloci prima di passare a farvi vedere gli scontrini, i prezzi dei singoli prodotti. Calcolate che questa è la spesa che mi dura tutta la settimana, quindi ogni cosa che io mangerò, userò questa settimana, l'ho acquistata in questa spesa. Tranne alcuni prodotti che già avevo in casa, però diciamo che settimanalmente bene o male la mia spesa si colloca all'incirca su questa cifra qua. Magari c'è uno scarto di circa 20, massimo 30 euro in meno o in più a seconda, però tendenzialmente spendo questa cifra qua tutte le settimane. Calcolate che noi siamo in due, quindi questa è la spesa di due persone, perciò banalmente se vi trasferite da soli all'incirca l'importo sarà dimezzato, se magari vi trasferite con tutta la famiglia siete in quattro, all'incirca se prendete gli stessi prodotti andrà raddoppiato più o meno. Altra cosa importante che vi volevo puntualizzare è che io non sono una spendacciona, quindi non prendo prodotti di una fascia di prezzo super super alta, cioè non il top del top, però non prendo neanche quelli di fascia più bassa generalmente, dipende un po' dal tipo di prodotto. Ho testato diverse cose, rapporti qualità prezzo, quindi diciamo che come spesa mi colloco in una fascia media o se vogliamo magari medio bassa, quindi ovviamente non è che se venite a vivere in Norvegia la vostra spesa costerà così come la mia, dipende chiaramente da quello che comprate, però diciamo che ecco non spendo tantissimo, non ho le mani bucate, ma neanche sto super super indietro, non mi manca niente diciamo, ma basta vedermi a figura intera per capire che non sto morendo di fame, ecco. Cominciamo con il rematus, abbiamo speso un totale di 272,60 corone, poi vi faccio vedere il dettaglio del prezzo di ogni prodotto. Partiamo con i surgelati, abbiamo preso questo pacchetto di penneau chocolat surgelati, ovviamente da scaldare in forno mezz'ora, li mangiamo sempre la domenica a colazione, sono sei in totale, quindi un pacchetto ci dura tre settimane. Per i nostri pranzi in settimana quando siamo al lavoro, questa settimana ho molto poco tempo per cucinare, quindi ci siamo risolti a fare per la maggior parte panini, abbiamo preso questi affettati, ragazzi non fateci caso, lo sapete che gli affettati in Norvegia o perlomeno qua nella nostra zona sono veramente veramente tristi, ne abbiamo presi tanti perché faremo diversi panini, ad ogni modo quelli di questa marca vengono 20 la confezione, ma 30 corone se ne compri due, mentre quelli di questa marca vengono 35 per due confezioni, poi cerco il prezzo di una confezione sola. Calcun bacon, è bacon di tacchino, molto magro, molto leggero, oserei dire, rispetto a quello normale, questo lo metteremo nell'hamburger questo venerdì sera, non è male, non è come il bacon normale, a volte prendiamo questo, a volte prendiamo quello originale, super croccante. Due mozzarella così per gradire se per caso ci viene fame dopo cena, diciamo sono di bail out, di sicurezza, non sono male, non sono le mozzarella della vita, però non sono neanche malissimo. Un pacco da mezzo chilo di penne integrali, full corn, significa integrale, e pane per i tosti, per i panini che faremo in settimana, anche questo è parzialmente integrale, non è male, è quello che ci soddisfa di più, tra tutti quelli che troviamo qua. Importantissimo, un pacco da due chili e mezzo di patate norvegesi, per fare le nostre patatine fritte il venerdì sera, ovviamente non faccio due chili e mezzo di patatine fritte insieme, mi durano almeno un paio di settimane, se non di più, questo è invece lo scontrino del kiwi, vi faccio poi sempre vedere il dettaglio di ogni prodotto, abbiamo speso in totale 606,77 corone. In questo caso abbiamo sempre due surgelati, un blending di verdure, queste sono con patate, carote, cornetti e cipolle, le mangiamo di solito la domenica con il pesce, molto buone, mentre questi sono nuovi, non li abbiamo mai provati, e se li mangio prima di editare o postare il video, magari vi lascio un commento. Mozzarella per la pizza, questi sono 600 grammi, io faccio due pizze il sabato sera e ne uso metà, quindi questo pacco mi dura due settimane. Formaggino spalmabile, questo lo uso normalmente per i panini, i tosti, insomma il mio pranzo in settimana, anche questo mi dura più di una settimana generalmente. Due zucchine, una per fare il risotto, di solito la uso intera e sempre intera, un'altra la uso invece per fare panini per il pranzo. Un limone, triste e solo, questo lo usiamo da mettere e da spremere sopra il pesce, o una fettina tagliata nella cochina in vetro da 25 cl, che berremo questo venerdì sera con l'hamburger, non lo facciamo tutte le settimane, ma in questo caso ci siamo concessi questa pazzia. Due mele verdi, italiane, melinda, molto asprine, di solito sono parecchio buone, e uva bianca senza semi, questa è tutta la frutta che abbiamo comprato questa settimana, perché in frigo ne avevamo dell'altra. 400 grammi di macinato di manzo, 14% di grasso, carne norvegese, questa la usiamo per fare gli hamburger, di solito non prendiamo questa marca qua, ma un'altra, ma questa settimana non c'era, o meglio c'era solamente dalla Germania, non dalla Norvegia, ma noi la preferiamo norvegese, e quindi abbiamo provato, vedremo come sarà. Pomodorini, pomodorini da mettere un po' dappertutto, li metteremo sulla pizza, li metteremo nei panini, li metteremo nell'hamburger, pomodoni di dolci, ne avevamo comprato una confezione uguale, la prima volta erano molto saporiti, e ora non sanno più di niente, però vabbè, vedremo come sarà stavolta. Questo è l'equivalente praticamente del latticello, è un litro, non lo bevo, lo uso per fare i muffin, ce ne va pochissimo, quindi di solito lo devo usare più volte, in frigo dura abbastanza, due settimane le fa di sicuro. Latte mini, confezione da mezzo litro, per il cappuccino dell'ingegnere la mattina, pizza sauce, non è altro che la passata di pomodoro per la pizza. Allora, io sono molto critica sulle passate di pomodoro, per me deve essere saporita, se sa solamente di pomodoro e nient'altro, ed è acida, mi fa schifo. Questa ovviamente non è una marca italiana, però al momento è l'unica che ho trovato, che mi piace. Panini per l'hamburger, ce ne sono sei, noi ne mangiamo uno ciascuno ogni venerdì, quindi quattro li congeliamo, per cui un pacco così ci dura tre settimane. Tre panini morbidi, niente di che, senza infamia né lode ci stanno. Tè verde alla menta, venti bustine, quindi mi dura in totale venti giorni, perché ne bevo una bustina ogni colazione. Tonno, 185 grammi, questo lo userò per fare la pasta fredda, ma generalmente lo uso una confezione intera. Una confezione di capperi, sempre per la pasta fredda, questi sono quelli meno costosi che ho trovato al momento. Olio d'oliva, prendo quello dei poveri, perché tanto quello dei un po' più ricchi, non è che faccia più di tanta differenza, e comunque lo uso poco per condire, quindi non è che gli senta molto il sapore, ecco. Pesto, e pesto rosso, per la pasta, non è tantissimo, quindi diciamo che lo uso per due, per cui un barattolo mi dura una volta. Non siamo ai livelli di pesto ligure, ragazzi, non immaginate cosa che cosa, però vabbè, fa il suo. Cioccolato fondente, in questo caso uno lo userò per i muffin, e uno da smangiucchiare così dopo cena, un quadretto, o due, dipende. Biscotti per la colazione, non so se questi li conoscete, ma sono quelli ricoperti di cioccolato, con dentro la marmellatina all'arancia, io ne vado molto ghiotta, e poi abbiamo questi favolosissimi, super chic, super trendy Oreo di Lady Gaga. Bagno schiuma all'olio d'oliva, è l'unico prodotto per la cura della persona che abbiamo comprato in questo caso, perché tutto il resto avevamo fatto scorta settimana scorsa, così anche come detersivi per la cucina o per i panni. L'ultimo supermercato in cui siamo stati è la Cop Extra, abbiamo fatto una mini mini spesa, ma abbiamo speso un totale di 185,12 corone. E ora vi faccio vedere che cosa abbiamo preso. Abbiamo preso, in sconto del 40% perché è in scadenza, infatti li congeleremo, queste salsicce vegetariane con formaggio e chili. Genere i norvegesi ci sanno fare con queste cose, ovviamente non è cibo sano, però è abbastanza saporito. E questo per ricollegarmi al fatto che presto, presto in realtà non so quando, ma appena ho tempo e riesco ad organizzarmi, vi faccio un video su tutti i prodotti vegetariani e vegani, o meno tutti quelli che riesco a trovare. Qui abbiamo, non si vedono molto bene, prodotti di panificazione sono delle merendine, ne mangiamo uno a testa al giorno. Questo qua è una sorta di rotolo al gusto pizza fatto di pasta sfoglia, mentre questo qua è una sorta di saccottino di pasta sfoglia ripieno di una specie di formaggino al gusto di jalapenos. Non sono male, non sono niente male, specialmente quello la pizza ci ha stupiti piacevolmente, non gli avrei dato un euro e invece ci sta. Una confezione di piselli in scatola, li uso sempre per la pasta fredda, di solito ne uso metà, quindi l'altra metà se non li uso il giorno dopo, di solito li congelo, per cui mi durano due volte. Questi qua sono quelli piccolini che sono più dolci, un po' più saporiti, li trovo solamente alla Coop, negli altri supermercati non li ho visti. E in ultimo abbiamo pane nan, due pezzi, e una salsa per fare il curry indiano, questo è il corma. Normalmente lo facciamo col pollo, ultimamente lo stiamo facendo con patate e carote, e poi a parte facciamo del riso bianco, non l'ho comprato perché già l'avevo in casa. Bene, questo era tutto ragazzi, il totale è 1064,49, diciamo 1065 corone, quindi circa 100 euro, all'incirca è quello che spendiamo tutte le settimane, poi ovviamente a seconda delle nostre necessità, può variare ma generalmente mai di 20, massimo 30 euro in più o in meno, di solito è in più, diciamo che 100 euro a settimana è il minimo che spendiamo. Come vedete non è poca roba, basta stare attenti, cercare di capire un po' quali sono i supermercati con i prezzi più bassi, stare un po' accorti sui prodotti, insomma magari non andare a scegliere quello della fascia più alta, si sopravvive. E niente ragazzi, questa qui era la mia spesa settimanale, spero che il video vi sia stato utile, che vi abbia dato qualche spunto, che vi abbia fatto capire, quantomeno che se verrete a vivere in Norvegia, non dovrete spendere per forza di cose un capitale, per sopravvivere, ne morirete di fame, diciamo che se devo fare una piccola considerazione, prima di riuscire entrambi a sistemarci a livello lavorativo, stavamo molto più attenti, quindi magari cercavamo un po' le offerte, prendevamo prodotti di fascia un po' più bassa, adesso siamo un po' più rilassati da questo punto di vista. Vi farò sicuramente, perché penso che possa essere molto interessante, un video sui consigli per risparmiare sulla spesa in Norvegia, quantomeno i primi tempi, perché come vi ho detto una volta che poi, a livello lavorativo avete una situazione stabile, la Norvegia è un paese in cui non si fa fatica ad arrivare a fine mese, generalmente, quindi difficilmente i norvegesi, ma così come anche gli stranieri che vengono a lavorare e vivere qui, è difficile che uno vada al supermercato proprio super attento al prezzo dei vari prodotti, quindi da questo punto di vista si è abbastanza rilassati, però mi rendo conto, mi rendo conto, lo so perché è successo anche a me, che i primi tempi bisogna farci un attimino attenzione, quindi penso che possa essere un video interessante. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del video, se eventualmente avete alcune domande per questo video che sto, come programma di girare, e niente ragazzi, grazie per aver seguito il video, come sempre un bacione, adebra, ciao ciao!